benvenuti in questo tutorial creeremo un flipbook in tema halloween iniziamo subito come base utilizziamo un cartoncino nero dove segniamo i punti di piega e poi pieghiamo entrambi i lati verso l'interno per creare le ali interne prendiamo un cartoncino viola e lo tagliamo a misura quindi pieghiamo il lato maggiore per incollarlo sulla base applichiamo un nastro biadesivo sulla piega e applichiamo la prima ala sul cartoncino nero in basso al centro mentre la seconda sarà in alto se chiudendo le ante laterali per via delle aggiunte trovate resistenza basterà tagliare un millimetro dal bordo esterno per favorire la chiusura arrotondiamo gli angoli di tutti gli elementi poi prepariamo le carte di rivestimento in tema halloween sia per le pareti strette sia per le parti più larghe con un inchiostro a tampone invecchiamo i bordi di tutte le carte quindi iniziamo a rivestire le varie parti del libro naturalmente creiamo simmetria tra destra e sinistra grazie a tutti 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 con un sacchetto trasparente per planner dove inseriamo dei glitter di vari colori e delle card applichiamolo poi al centro del libro con un nastro biadesivo continuiamo quindi la decorazione con vari elementi come chiusura ritagliamo una striscia di cartoncino che chiudiamo dopo aver preso la misura del libretto chiuso quindi decoriamo la cintura con un titolo a tema ed ecco pronto il nostro flipbook per contenere i ricordi della notte più spaventosa dell'anno grazie per essere stati con me alla prossima grazie a tutti grazie a tutti